Siamo qui davanti al prefetto per chiedere lo scioglimento del comune di Roma. Noi avevamo presentato tempo fa un atto per richiedere la verifica di tutti i cartelloni abusivi e non i permessi nel nostro municipio. C'era stato detto che oltre il 97% erano regolari, bene per loro quindi anche solamente il 3% dei cartelloni irregolari gli andava bene, non era così. Ci hanno bocciato comunque la mozione, per poi ripresentarla abbiamo vinto, ma poi alla fine non hanno fatto niente di tutto quello che avevamo chiesto, perché avevamo chiesto una verifica per la legalità, ma non è stato fatto. Già allora era un campanello d'allarme, forse ci chiediamo questo anche nel nostro municipio.